Claudio Cardelli è il presidente dell'Associazione Italia Tibet, un'associazione nata nel 1988 per testimoniare la storia, la cultura, la tradizione di un grande paese, il Tibet. A lui chiediamo le finalità dell'associazione e il lavoro che svolge proprio per promuovere quelle che sono le istanze del Tibet e la sua storia e la sua cultura. Italia Tibet è nata nell'aprile del 1988 all'indomani di un viaggio in Tibet ad opera di un gruppo di persone, amici, più o meno intimi, però tutti accomunati da una passione e un interesse per questo mondo particolare allora, molto poco conosciuto, diciamo appannaggio di un'elite, una nicchia, più che un'elite, ma l'idea di fondare un'associazione a sostegno del Tibet, a sostegno della causa tibetana, è nata all'indomani del viaggio a Lhasa del 1987, quando alla fine di agosto scoppiarono i tumulti che scatenarono una feroce repressione da parte dell'occupante cinese, un po' come era avvenuto nel 1959. Diciamo che era la prima grande manifestazione in Tibet dopo quella del 1959, culminata con la fuga del Dalai Lama in esilio in India. Assistere a questa repressione, a questi soprusi, a questo massacro che venne messo in atto a Lhasa dalle truppe cinesi fu per noi una goccia che fece travocare questo vaso, decidemmo di organizzare, di pianificare, come già stava succedendo anche in altri paesi del mondo, un'associazione proprio formalizzata, fondata, che in qualche modo sostenesse il lavoro del Dalai Lama, il lavoro del governo tibetano in esilio e soprattutto diciamo creasse una situazione di comunicazione, di sensibilizzazione presso il grande pubblico del problema tibetano. Problema che noi abbiamo affrontato negli anni fondamentalmente su tre settori, cioè quello culturale, organizzando mostre, seminari, conferenze, rassegne cinematografiche, festival, su quello umanitario, quindi promuovendo da una parte adozioni di bambini profughi a distanza, profughi sia che provenivano dal Tibet, figli anche di rifugiati tibetani in India e poi sul fronte ovviamente politico cercando di fare un lavoro di lobbying presso comuni, regioni e lo stesso Parlamento cercando di sensibilizzare i nostri politici, i nostri decisori al problema della causa tibetana. Problema che ha conosciuto momenti diciamo di grande popolarità soprattutto all'indomani della premiazione col premio Nobel al Dalai Lama nel 1989 a cui sono seguiti imponenti manifestazioni in tutta Europa, come noi ovviamente abbiamo partecipato sia come partecipanti che come organizzatori, quindi ricordo Bruxelles, ricordo Londra, ricordo Parigi, migliaia di tibetani ed europei hanno manifestato a favore del Tibet. Poi diciamo negli anni la pressione cinese si è fatta più incalzante, più sofisticata, più scientifica e quindi adesso ci troviamo di fronte a problematiche nuove che poi stiamo vivendo in questo momento particolare con la situazione di Hong Kong e con l'emersione anche nel grande pubblico del problema di altre minoranze perseguitate come gli Uiguri per esempio che in questo momento stanno denunciando al mondo quello che stanno subendo da parte della Cina. Quindi diciamo lavoriamo su tutti questi settori. Il Tibet è una storia millenaria, una storia che si perde nella notte dei tempi e di cui abbiamo già appreso parte di quello che è avvenuto nel corso del tempo. Ora il Tibet chiede un'autonomia per la sua storia, per la sua cultura, un'autonomia che non viene sicuramente accettata da quella che è di fatto un'occupazione coloniale da parte della Repubblica Popolare Cinese. La storia del Tibet è una storia interessante, molto particolare, peculiare. Il Tibet è stato un grande impero. Ora è difficile sintetizzare in poche battute la storia del Tibet in generale. Che cosa possiamo dire? Il problema principale oggi è quello che da una parte la Cina sostiene di essere stata sempre padrona del Tibet. E questo è un atteggiamento che i cinesi hanno nei confronti di qualunque territorio sia stato sotto la loro giurisdizione anche per qualche periodo di tempo. E dall'altra parte invece i tibetani sostengono pur rivendicando oggi un'autonomia più che un'indipendenza. Lo stesso Dalai Lama da molti anni si batte perché venga riconosciuto al Tibet una genuina autonomia. Però come è uscito adesso un recente libro che noi abbiamo tradotto in italiano, il Tibet non ha mai fatto parte della Cina ma oggi la soluzione unica è la cosiddetta middle way, cioè una soluzione via di mezzo che garantisca al Tibet una reale autonomia. Ecco, in due parole proprio molto rapidi, il Tibet è un'antica civiltà che fa risalire la storia a noi pervenuta all'VIII secolo, VII-VIII secolo, con la creazione di dinastie che hanno creato delle società stanziali dove invece normalmente la vita era una vita di popolazioni nomadi, popolazioni nomadi che praticavano dei culti di tipo sciamanico come in gran parte dell'Asia centrale che sono state in qualche modo positivamente colonizzate dal buddismo. Il buddismo è venuto dall'India a opera di maestri, il principale e il più conosciuto è Padmasambhava, il Guru Rinpo, cioè in tibetano, che appunto chiamato da uno di questi primi sovrani del Tibet diffuse il buddismo nel Tibet. Il buddismo ha permeato tutta la storia tibetana sia dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale e ovviamente dal punto di vista anche spirituale e diciamo il Tibet così popolarmente conosciuto, cioè come un mondo di monasteri, di monaci, anche di prodigi, di metafisica, di ascetti, è un po' lo stereotipo che tutto il mondo occidentale ha sempre vagheggiato e per dire ha espresso realizzando, non so, romanzi come quello di James Hilton Orizzonte Porduto, su cui nel 1937 Frank Capra fece l'omonimo film. Quindi un mondo particolare, un mondo isolato, un mondo chiuso, albergato di pace, di serenità, cosa non vera perché il Tibet, come tutti i paesi del mondo, ha conosciuto anche al suo interno tensioni anche forti, anche fra stessi gruppi monastici. Però ecco diciamo questo, che nel corso della sua storia il Tibet è stato in certi momenti addirittura un impero che era arrivato fino alle porte di Pechino e quindi un grande impero che aveva fatto già allora dei trattati con lo stesso imperatore cinese, in cui si riconoscevano dei confini fra Cina e Tibet. In alcuni momenti della sua storia il Tibet ha creato questo tipo di società particolare teocratica, viene definita teocratica perché i Dalai Lama, figure diciamo create dai mongoli che diedero a questi sovrani capi spirituali un potere temporale politico e quindi diciamo si riconosce nella società tibetana questa identificazione tra clero e classe dirigente. Ci sono stati dei Dalai Lama estremamente importanti come per esempio il quinto Dalai Lama, il grande quinto costruttore del Potala di Lhasa. Ci sono stati dei Dalai Lama particolari come il sesto per esempio il Dalai Lama poeta. Poi ci sono stati dei Dalai Lama che sono morti molto giovani perché forse sono stati avvelenati, proprio quando nel periodo in cui la Cina, l'impero Qing, peraltro non un impero cinese ma un impero Manchu, quindi gli stessi cinesi erano sottomessi a un impero non cinese, avevano diciamo creato una specie di rapporto con il Tibet, in inglese si dice the sovereignty, cioè un paese nella sfera di influenza, non un vero proprio protettorato. Qui ovviamente la sofisticazione lessicale può creare dei quadri diversi, però in due parole si può dire che dalla fine del XVII secolo fino al 1912 il Tibet faceva parte della sfera di influenza cinese senza però avere una reale sudditanza, perché in Tibet c'erano due ambasciatori cinesi che stavano lì più che altro a fare i funzionari e sorvegliavano diciamo che il Tibet non si allargasse più di tanto, soprattutto in politica estera. Nel 1912 il XIII Dalai Lama dichiara formalmente la riappropriazione dell'indipendenza tibetana e dal 1912 al 1950 il Tibet è di fatto un paese assolutamente indipendente che viene dimostrato anche da tutta una serie di elementi tipo, non so, francobolli riconosciuti dal sistema postale internazionale, banconote che giravano per l'Asia tranquillamente, passaporti rilasciati a funzionari con timbri di vari paesi del mondo, confini controllati da un esercito formale del governo tibetano. Quindi questa è indipendenza però parallelamente a uno stato di autoreclusione che purtroppo non ha giovato al Tibet dal punto di vista della storia perché questo fatto di essere chiuso su se stesso, soprattutto all'indomani della fine della seconda guerra mondiale, non ha dato a coloro che reggevano il governo in quel periodo, il Dalai Lam era bambino praticamente, l'idea di associarsi alla società delle nazioni, di creare delle alleanze con l'esterno e quindi questo Tibet diciamo preda e vittima della sua autoreclusione, poi si è ritrovato l'esercito di Mao Tse Tung che è entrato senza grosse difficoltà, sbaragliando diciamo le povere e arretratissime armate tibetane e praticamente arrivando all'Asa senza colpo ferire. Tibet e Cina non sono lo stesso paese, hanno una cultura diversa, hanno una lingua diversa, hanno una scrittura diversa, hanno una religione che fa riferimenti al buddismo, quello tibetano al buddismo indiano mentre quello cinese è un buddismo diciamo Chang, Zen è molto più simile a quello giapponese, quindi sono due paesi veramente che hanno delle cose in comune perché sono confinanti ma dal punto di vista proprio dell'identità nazionale sono due paesi completamente diversi. Durante la seconda guerra mondiale il Tibet fu di fatto isolato, ma Presidente Cardelli nel corso di quella che fu la guerra civile tra Mao Tse Tung e Chiang Kai-shek quale fu la posizione del Tibet. Non ci si accorse che poi alla fine di questa drammatica vicenda sarebbe stato il Tibet il successivo passaggio di Mao Tse Tung e delle truppe della Repubblica Popolare Cinese. No, il Tibet rimane isolato durante il periodo dei signori della guerra e anche dopo, durante la lunga marcia. il Tibet è indaffarato nelle sue beghe interne, guerre tra monasteri, reggenti, Dalai Lama a bambino che viene in qualche modo tenuto da parte perché non può prendere decisioni politiche. Infatti i tibetani nel 1950 si ritrovano all'esercito della Repubblica Popolare Cinese alle porte, non dico senza sapere perché, perché qualche movimento l'avevano fatto un po' di mesi prima per cercare di trovare aiuti internazionali. C'era questo ministro Shaka Pga che era venuto persino in Italia, però questi due delegati tibetani con i loro vestiti tradizionali di broccato si erano mossi veramente troppo tardi perché ormai la macchina infernale di Mao era talmente oliata ed efficace che è entrata in Tibet senza troppi problemi. Insomma, poi anche, devo dire, poi anche qui ci sono tante cose da raccontare con l'aiuto anche di qualche collaborazionista che in queste vicende c'è sempre. E' in distribuzione in questi giorni un bellissimo libro sulla storia della resistenza del popolo tibetano all'occupazione cinese. Lei, nella prefazione, ha illustrato quelle che sono state i momenti più salienti e poi anche quella che fu inevitabilmente la fine di una speranza. Vogliamo riassumere questo libro e presentarne il titolo. Mi hanno chiesto, non tanto tempo fa, di scrivere l'introduzione a questo libro che si chiama Il Dorje e la spada. Il Dorje e la spada sono i simboli di una bandiera di un movimento armato, il Chushigandruk, che vuol dire quattro fiumi e sei montagne. Chiu, fiume, Ghi, quattro, Gang, montagna, druk, sei. Perché? Perché fa riferimento a un territorio del tibeto orientale, l'Amdo, dove ci sono, appunto, queste montagne dell'Anniamacene, eccetera. Ed è un movimento spontaneo, non, diciamo, deciso e organizzato dal governo tibetano in esil, il quale, anzi, aveva preso un po' anche le distanze da questo movimento, che però aveva unito, diciamo, guerriglieri tibetani che si erano resi conto, già siamo alla metà degli anni 50, quindi prima ancora della grande rivoluzione e della grande insurrezione di Lhasa, quando praticamente in tutto il tibeto orientale i cinesi, che erano arrivati promettendo regali, infrastrutture, insomma tutto quello che fanno anche adesso, avevano invece dimostrato il loro vero volto con ecidi, massacri, repressioni, eccetera. E proprio nella nascita spontanea di questo movimento armato ci sono veramente pagine epiche che vale veramente la pena di leggere e vale la pena che vengano raccontate, perché sono parte di una storia struggente, eroica, che non ha avuto giustizia, non ha avuto giustizia né dal punto di vista storico e neanche dal punto di vista proprio della comunicazione e della solidarietà internazionale. questo libro che è poi di fatto un'intervista a una reduce di questo movimento, questo Talcen, è molto particolare. Io nell'introduzione proprio ho scritto come mai non è stato fatto mai un film su questa storia del Chushigandruc, perché ci sarebbero tutti gli elementi per farne un film colossale che secondo me coinvolgerebbe e emozionerebbe il pubblico di tutto il mondo. Interessante è l'epilogo del Chushigandruc quando, dopo la fuga del Dalai Lama, riprese dopo un certo periodo di inattività nel 1960, un'attività non più da dentro il Tibet che era occupato appunto dai cinesi, ma dal confine nepalese, dal territorio del Mustang, riprese una certa attività di guerriglia e di resistenza contro le truppe cinesi. Purtroppo dovette, va detto che il Chushigandruc venne aiutato e anche organizzato e supportato dalla CIA americana, in chiave anticomunista e anticinese, quando poi tra la Cina e gli Stati Uniti iniziò la cosiddetta politica del riavvicinamento del ping pong, la diplomazia del ping pong, i cinesi pretesero immediatamente che gli americani cessassero di aiutare questi guerriglieri tibetani e questi guerriglieri si ritrovarono improvvisamente senza più nessun tipo di supporto e addirittura gli arrivò questo messaggio proprio parlato del Dalai Lama in una cassetta in cui chiedeva a tutti di sospendere qualunque attività bellica contro i cinesi e questo fu il grande momento drammatico per tanti di loro, al punto che diversi si tagliarono la gola e si uccisero per non arrendersi a questa evidenza. Da quel momento, diciamo, iniziò la parte della resistenza non violenta dei tibetani nei confronti della Cina ed è cambiata completamente tutta l'identità e la filosofia della causa del Tibet. shift 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 graph shift p Grazie a tutti